Appreso il via ad Ispi che il campo Estate Liberi 2022 è organizzato dal coordinamento provinciale di Libera Ragusa. Tema del campo, l'integrazione. I campisti provengono da diverse parti d'Italia, dalla Tunisia e dal Bangladesh. Visiteranno il nostro territorio, in particolare alcuni luoghi significativi per le criticità presenti o per le esperienze importanti che ospitano. Incontreranno diversi testimoni che racconteranno storie di sfruttamento, di violenza, di immarginazione, ma anche storie di resilienza, di riscatto e di accoglienza. Il nostro direttore Piero Giunta ne ha parlato nell'intervista che stiamo per ascoltare con il referente regionale di Libera Vittorio Abbeduto e con due ragazzi partecipanti al campo, Flavio e Victoria. Allora Vittorio, si parlerà di interazione e integrazione al campo Estate Liberi 2022 per il secondo anno consecutivo qui ad Ispica? Sì Piero, è il secondo anno che Estate Liberi realizza il campo qui ad Ispica, ad accoglierci sono i frati minori nella loro struttura e vengono qui ragazzi da diverse parti d'Italia. Quest'anno il tema è integrazione e interazione. Sono presenti all'interno del gruppo anche ragazzi immigrati perché vogliamo fare un'esperienza non soltanto sul tema dell'integrazione ma proprio un'esperienza di integrazione e interazione all'interno proprio del gruppo dei campisti. Lavoreranno i ragazzi la mattina, faranno dei lavori secondo le indicazioni che ci daranno i frati proprio per questo bene che è un bene comune a disposizione sempre della cittadinanza esplicese e poi faremo lavori di manutenzione e poi nel pomeriggio faremo formazione. Formazione si parlerà di immigrazione, si parlerà del viaggio degli immigrati con quelli di Mediterranea e con quelli della tavola valdese, con la CGL parleremo di sfruttamento del lavoro ma andremo a Marina di Acate per conoscere le situazioni di disagio della fascia trasformata e vedere anche quelli che sono gli interventi di Save the Children, di Emergency, della CGL, di Caritas, che sono di CIS, che sono tutti lì impegnati all'interno proprio di un'azione di rete. Poi visiteremo anche la Casa Don Puglisi dove si parla di accoglienza, di integrazione e di interazione in altro senso, visiteremo di questo luogo di accoglienza importante che ha messo in moto la Caritas di Ucesana. Poi avremo anche un momento di condivisione con quelli della Giovanni XXIII e quindi faremo un momento anche di condivisione con i bambini ucraini che attualmente sono lì ospiti. Ascolteremo la testimonianza di un familiare di vittime di mafia, Rosalinda Ottone che ci parlerà di suo fratello e dell'altro amico Rosario che vennero uccisi nella famosa strage di San Basilio. Faremo tante altre attività, in particolare poi l'ultima sera, il 31, ci sarà la serata per la pace, proprio Ispia Corso Caribaldi ore 21 e 30. Ci saranno tutte queste realtà che noi andremo a visitare che parleranno di come attraverso la costruzione di giustizia, giustizia sociale, nei territori si costruisce la pace. Noi dobbiamo costruire questa pace perché senza giustizia non c'è pace. Vittorio ti voglio fare riflettere su queste due parole, integrazione e interazione, due parole attuali al mondo d'oggi. Sì, abbiamo scelto di chiamare il campo in questo modo, di intitolarlo integrazione e interazione perché l'integrazione da solo non basta. Nel senso che quando si parla di integrazione si pensa sempre a qualcuno che viene e si deve adattare alla situazione nostra, che è la situazione migliore, alla situazione culturale. Invece interazione indica che i due interagenti non sono uno sul livello inferiore e l'altro sul livello superiore. Sono sullo stesso livello, si interagisce, si cammina assieme, si cambia assieme e quindi ognuno poi è portatore di un elemento arricchiente, è portatore appunto di qualcosa che arricchisce l'altro. Tutte e due sullo stesso livello. Flavio, perché hai deciso di partecipare al campo di libera qui a Ispica? Anche per continuare l'esperienza iniziata l'anno scorso con un campo sempre di libera, Isola di Caporizzuto in Calabria. Ho scelto comunque di prendere parte a questo campo sia per fare qualcosa di utile, perché questo campo comunque sicuramente è costruttivo, è costruttivo e inoltre permette anche di fare nuove amicizie e comunque in generale è una nuova esperienza. Vittoria, la stessa domanda che ho fatto a Flavio. Perché hai deciso di partecipare al Campo di State Liberi 2022? Perché avevo voglia di fare qualcosa con altre persone che appunto si avvicinasse al volontariato, ma che fosse anche qualcosa di formazione per capire meglio come il fenomeno mafioso si inserisce nel tessuto sociale, diciamo, in alcuni territori, perché mi interessa molto l'aspetto di prendere qualcosa e ridarlo alla comunità di un posto. E cosa ti aspetti da questo campo? Appunto di capire meglio come funzionano anche dal punto di vista amministrativo forse determinati processi e sì, riconoscere altre persone che condividono le stesse idee. Ringrazio Vittoria Veduto, Flavio e Vittoria, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.